La valle di Susa, grazie ad una esposizione est-ovest, gode di un clima tipicamente mediterraneo. La viticoltura, praticata su un territorio di 19 comuni tutti montani, ha sempre rappresentato un fattore di reddito per le popolazioni locali. La coltivazione del vigneto si estende fino ad altitudini estreme, circa 1000 metri, contendendo il primato europeo alla vicina Valle d'Aosta e alla Svizzera. Il paesaggio è ricco di suggestioni visive, che dalla Sacra di San Michele si spingono fino al Forte di Exil, passando per l'Abbazia della Novalesa. I vini a denominazione Valsusa sono ottenuti in prevalenza da uve Barbera, Dolcetto, Neretto e Havanà. Quest'ultimo è un raro vitigno a bacca rossa giunto in Piemonte quando questa regione era unita alla Savoia e rappresenta uno dei simboli dell'enologia locale. Il tessuto produttivo è costituito da piccole aziende, importanti anche per la tenuta del territorio montano. In questo contesto opera una cooperativa di giovani che coltiva gli splendidi vigneti di Chiomonte. Grazie a tutti!